Anche il Polo ad Arezzo. Anche il Polo ad Arezzo, tra l'altro, questa attività sportiva che si svolge nel bellissimo resort di Villa Sesta, nel Polo Club di Villa Sesta, inizia proprio nella settimana del Saracino, inizia il 15 e il Polo Club ci regala una bellissima passeggiata dei giocatori a cavallo che attraverseranno il centro storico di Arezzo martedì 13 a partire dalle 5 e mezza. Sarà un'occasione per proporre la presenza del Polo nella nostra provincia altra attrazione importante dal punto di vista sportivo, spettacolare, anche per quello che significa in termini sociali, perché è uno sport anche per famiglie. L'idea di promuovere il Polo con la sfilata martedì, nella quale invitiamo tutti turisti, cittadini, lavoratori che abbiano la possibilità di vederla, è al Polo Club Villa Sesta per le gare di questo mese, che avremo tre tornei molto importanti, il quale noi apriamo le porte a tutti, l'ingresso sarà libero e ringraziare tutti perché veramente la disponibilità del comune e della provincia è stata stupenda e anche della gente che giostra nel Saracino che si è dimostrata sempre molto vicina a noi, per cui un grazie in questo modo e vi aspettiamo tutti il martedì 13, dalle 5 e mezza nella sfilata e dopo il Villa Sesta Polo Club.